Musica Buon salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video Sono Carlo Fortino dello staff di Ultimate Team FIFA Italia E oggi siamo qua con la player review del giocatore più inaspettato Diciamo perché ha fatto solamente un goal e un assist Comunque azzeccato da Ben nelle sue prediction E meniche If Pagato la bellezza di 186.000 credit Il suo prezzo si è alzato un pochino dato che l'ho comprato stamattina E il prezzo era un po' basso Allora Iniziamo a parlare di questo giocatore che non mi è piaciuto ma proprio per niente Comprate la sua versione base ma proprio over 9000 Allora Allora Iniziamo a parlare di lui Parlando sempre partendo dalla velocità Velocità che sicuramente è uno dei migliori pro di M&I Che dato che Lui è come una macchina Ingranata prima Ha i rapporti molto corti Quindi fa prima, seconda, terza, quarta Poi quando vai in quinta non lo fermi più Quindi l'accelerazione appunto è 90 E la velocità scatto è 87 Con 82 di riflessi È diciamo Il suo più grande però secondo me è la velocità Poi passiamo a parlare del tiro Allora il tiro si divide come sempre In tiro a giro 48 Anche se a me è piaciuto Ho provato a fare qualche tiro a giro E ho appreso palo perché poi lui Allora lui ha la porta stregata davanti Ma di questo ne parliamo dopo 48 di tiro a giro Mi sembra tanto oba oba Che sulla carta ha tipo Un valore sul 50 Ma è molto forte Su tiro a giro Poi 84 di finalizzazione È un suo contro Perché lui arriva davanti al portiere Sembra che lui voglia spaccare i denti al portiere Perché? Perché come vedete in queste clip Lui tira sempre il pallone in bocca al portiere Poi magari c'è quella volta che entra Perché magari sfiora il portiere La palla prende un giro strano ed entra Come in questa occasione di questo gol Però davvero davvero è un giocatore Che fatica davvero a segnare Io ho fatto 4 gol in 4 partite E con la sua versione base in 4 partite Ne avrei fatti 10 di gol Quindi davvero davvero Un suo contro è sicuramente la finalizzazione Vedete? Continua a tirare in bocca al portiere Poi il long shot Allora ho fatto un paio di long shot E uno è andato dentro E l'altro comunque è andato nello specchio Quindi il long shot è sicuramente un suo pro È un suo pro insieme a inevitabilmente La potenza di tiro che è 88 sulla carta Che è davvero un valore ottimo Poi passiamo a parlare del passaggio Che è un suo pro Nonostante Una Sulla carta faccia schifo Però il suo passaggio diciamo Che ha 50 di passaggio lungo E 70 di passaggio corto Dai Diciamo che non è male Comunque lui di passaggi non si ritroverà mai E dico mai A fare passaggi Se non per le ali Eventualmente per innescarle Passaggio lungo È un po' carente Però il passaggio corto Dai diciamo che è un pro Poi parliamo del dribbling Allora il dribbling Con 3 stelle skill Quindi se sapete skillare bene Comunque riuscirete a skillare anche con quest Però Le 3 stelle skill Non le ho messe Né nei pro Né nei contro Dato che Non limita il dribbling di questo giocatore Come potete vedere in queste clip E Menike parte da metà campo Perché Non ha un workhorse Perfetto diciamo Lui parte da metà campo Parte In velocità Ingrana la quinta La quinta Nonostante il suo controllo di palla Sia un contro Lui riesce a Scartarli tutti in velocità Ma senza fare una skill Se non una finta di tiro Lui riesce tranquillamente A Skillare Poco Però passare Passare Perché veramente La sua velocità Gli permette di dribblare Benissimo Quindi Quel 78 sulla carta Secondo me è molto di più Poi Passiamo All'ultimo Diciamo Pro di Menike Che è Il fisico Diciamo 85 sulla carta Che si divide in Un 92 di forza fisica Quindi lui Mischiata a questa A questa velocità ottima Lui riesce sempre Nei contrasti A liberarsi Quindi se gli danno una spallata Lui Butta giù il difensore E poi prosegue la sua corsa In velocità Poi Abbiamo Un 64 di salto Anche se il suo colpo di testa È davvero ottimo Infatti L'ho messo tra i pro Perché? Perché Diciamo Non Il salto può sembrare Non troppo buono Però Per esempio Anche l'agilità E l'equilibrio Però c'è da dire Che È forte È forte anche Nel colpo di testa Come avete visto Alcune clip Io non posso dire Che non sia forte Nonostante sulla carta Sia Un brutto valore Dato che Comunque Il valore del colpo di testa Si Ha un 76 di precisione Però dai Non è neanche troppo Però secondo me È davvero buono E poi Cosa vogliamo parlare L'aggressività Di Emenike Sicuramente È Non diciamo Ottima Però Se lui perde un pallone Sicuramente Lo andrà sempre E dico sempre A ricercare Di riprenderlo Poi qua guardate Purtroppo Questi tiri Che vanno sempre E dico sempre Fuori Come potete vedere Lui parte Guardate Questa è l'azione tipo Con Emenike Parte in velocità E poi Qua non ho citato Il fatto che lui Prenda solamente Pali e traverse Lui Come potete vedere Nelle clip Prende solamente Pali e traverse Quindi diciamo Che il suo tiro È ottimo La finalizzazione Pecca Perché lui Arriva davanti al portiere Boh Non fa gol Non riesce a fare gol Se non Magari di testa Oppure su un long shot Oppure proprio davanti al portiere Che tira di potenza Ma non sempre Gli riesce Anche perché Ha le 4 stelle Piede debole Lui è destro A tirare di mancino Lui non riesce A tirare di mancino Oppure prende la traversa Come in questo caso Quindi davvero Davvero Un giocatore incerto I suoi pro Sono velocità Tiro Forza fisica Dribbing Long shot Colpo di testa Potenza tiro E passaggio Come citato Lui ha tanti pro Però i contro Sostanziali sono Cioè il tiro a giro Che diciamo Mi è piaciuto Però sulla carta È un 48 Poi il controllo Palla La finalizzazione Soprattutto Il voto finale Che gli do È un 7 Ditemi la vostra Nei commenti E dunque ragazzi Per questo video è tutto Ciao ciao Ciao